utilizzi google chrome ma questo ti va un po lento perché certe volte richiede troppe risorse vorresti velocizzarlo ma non hai voglia di cambiare assolutamente niente ebbene sappi che si può fare e in maniera velocissima andiamo a vedere come ti senti pronto iniziamo diciamo la verità google chrome ti piace tantissimo così com'è e non hai voglia di cambiare niente però certe volte e soprattutto su certe pagine la navigazione diventa davvero lenta e allora qual è il problema il problema è che chrome va quando lo apriamo a caricare una serie di cose come ad esempio questo bellissimo sfondo che stai vedendo in più tutte quante queste estensioni tutte cose che vengono caricate in memoria e richiedono una certa quantità di risorse al nostro pc per poter funzionare correttamente ma se chrome ci piace così com'è e non vogliamo cambiare niente come facciamo a navigare anche su quelle pagine più pesanti che ci richiedono tante risorse ebbene la risposta è estremamente più semplice di quello che possiamo pensare infatti ci basta premere una combinazione di tasti che nella fattispecie è ctrl shift ed n per andare ad aprire una nuova pagina di navigazione in incognito questa pagina non andrà più a caricare nessuno sfondo e in più non caricherà tutte quante le estensioni che abbiamo installato dentro google chrome ma non basta non andrà a salvare la nostra cronologia di navigazione i cookies e i dati che vengono interscambiati con gli altri siti e in più non salverà nessuna delle informazioni che andremo ad inserire nei vari moduli e se come tutto questo non bastasse bloccherà anche automaticamente tutti quanti i cookies di terze parti in modo da rendere ancora più fluida e veloce la navigazione oltre a garantirci naturalmente anche una anonimità nel corso della stessa ci basterà quindi portarci come facciamo sempre sul nostro motore di ricerca preferito per poter navigare tranquillamente e velocemente tutto qui spero che questo piccolo trucchetto ti risulti utile in caso di bisogno e prima di congedarci come sempre non mi resta che ringraziarti per avermi fatto compagnia nel corso di questo video salutarti e darti appuntamento alla prossima